Io il 5 giugno voto di piazza perché intanto era già il nostro sindaco e vorrei dare a Trieste un'altra chance visto che la sua amministrazione ha fatto molto bene. Voto di piazza perché voglio sentirmi sicura nella mia bellissima città. Voto Roberto di piazza perché voglio che la mia città cambi, che ci siano più opportunità per i giovani. Voglio restare nella mia città crescendo professionalmente. Il 5 giugno con l'unificanza di portare tutte le amiche. Il 5 giugno voto di piazza perché purtroppo la città sta morendo e lui penso che mi dia più fiducia degli altri. Visto la crisi che la nostra città sta passando, soprattutto i commercianti, di piazza è la persona più giusta indicata a risolvere questi problemi. Il 5 giugno io voto di piazza perché prima ero a Mugia ed era il mio sindaco, poi sono andato a Trieste e per due mandati è stato il mio sindaco e negli ultimi 4 anni non ho mai visto Trieste ridotta in queste condizioni da sfaccello. Domenica 5 giugno per votare Roberto di piazza metti una X sul nome Roberto di piazza. Domenica 5 giugno per votare Roberto di piazza Grazie a tutti.